E' Laura? Voglio dire a tutti quelli che vedono che ci sono queste cose incostituzionali di farsi le proprie ragioni, di non avere paura di nessuna cosa. Aiutiamoci uno con l'altro, perché lo Stato è il Presidente della Repubblica e quanti di loro devono provvedere al benestare del cittadino, e si devono comportare come il buon padre di famiglia, ma questo qui vedo che non è fatto, non ci considerano, anzi ci lasciano in valia di tutte queste cose. Noi viviamo in uno sotto di diritto e democratico, le norme si contestano nelle sedi opportune e con le modalità che prevede la legge. Quindi quello che io chiedo, ho chiesto a questa signora, è di adempiere a un obbligo che è quello di allontanarsi dalla scuola perché non aveva il Green Pass come prevede la normativa, può lamentarsi tranquillamente e esercitare i suoi diritti dal giudice del lavoro presso qualunque altro tribunale voglia rivolgersi, ha tutto il diritto di farlo. Io ho il dovere di applicare la normativa, semplicemente questo. Non devo dichiarare nessun altro, perché mi sembra così palese che in una scuola si insegni a rispettare il diritto, le procedure e le norme e ad affrontare quelli che sono i propri diritti con quello che è previsto dalla normativa in uno Stato libero e democratico mi sembra scontato, che ha da lamentarsi sulle norme, utilizzi i canali e i luoghi opportuni con le procedure opportune. Tutto qua.